prova a immaginare di entrare in un sogno in cui tutto ciò che succede è per il tuo meglio bene da un punto di vista più alto la tua vita è questo sogno devi solo imparare a fidarti un po di più ogni giorno ritrovati per questa nuova puntata del podcast lezioni di fiducia e mi trovate particolarmente luminosa perché mi sono dedicata una settimana di cura di cui adesso voglio raccontare e anzi vorrei proprio dedicare questa puntata alla cura di sé una cosa di cui si parla e si danno continue ricette che spesso però sono soltanto un macchiage a uno stile di vita che magari non è esattamente impostato su una reale cura di sé questo è anche dovuto al fatto che prevale nella nostra soprattutto nella nostra società occidentale una mentalità maschile rispetto a una mentalità femminile quindi una mentalità di profitto rispetto a una mentalità di armonizzazione della vita di tutto ciò che è al mondo natura umani animali la terra eccetera bene allora parto raccontando un po la mia esperienza per poi andare in un discorso più generale prima della del lockdown del covid avevo la buona e sana abitudine in inverno di andare in india e di dedicarmi un tempo per fare delle cure ayurvediche quindi sempre nella linea della vita yogica questa scienza antichissima contemplata nei veda come peraltro lo yoga che è la yurveda e che si traduce come scienza della conoscenza della vita secondo la quale la malattia non è una problema soltanto epidermico della nostra parte fisica ma è addirittura un disallineamento dalla verità quindi bisogna riarmonizzare la propria rotta per guarire bene io mi dedicavo questo tempo per fare un detox profondo che parte da dal corpo ma sempre raggiunge non scherzo l'anima ho visto pezzi di karma venire a galla e chiedermi se ero pronta a lasciarli andare per qualche ragione non è stato più possibile poi per me andare a fare queste cure in india anche per il tempo lungo che richiedevano ma avevo saputo di un luogo non lontano dai colli di ananda dove vivo in umbria e questo luogo invece è proprio al confine di la verso le marche dove in una in una settimana riuscivano a fare tutto il programma di detox che si chiama pancia karma mi chiedevo anche come fosse possibile farlo in una settimana e arrivo assolutamente soddisfatta è stato tosto meraviglioso come al solito c'è il momento in cui questa purificazione queste tossine manifestano le loro radici che sono ben più profonde del corpo e fanno uscire tutti i demoni ma alla fine c'è una risurrezione quindi ti pare veramente di vedere in trasparenza attraverso la tua parte fisica fino alla tua luce interiore quindi oggi un po volando voglio incitare molti a fare non per forza questo tipo di cura ma una cura profonda del sé anche perché effettivamente richiede una certa preparazione devo dire la verità e come diceva il maestro che la guidava un maestro meraviglioso che si chiama suami jojiti mayananda un vero maestro della yurveda che ha una una biografia incredibile che lo vide camminare da solo per anni da quando aveva 14 anni nella giungla alla ricerca dei maestri di questa scienza per impararla per imparare lo yoga fino poi a creare degli ashram e prima in sri l'anca e poi con la guerra civile in europa e infine in questo luogo poco sopra la costa marchigiana a corinaldo che si chiama per chi fosse curioso ashram jojitinath bene dicevo appunto che questa richiede abbastanza una vita iogica nel senso che richiede pazienza resistenza non lamento perché ci sono alcuni giorni più d'immersione nell'oscurità proprio per attraversarla tutta fino alla luce ma qualunque sia la linea di cura anche cura yurvediche diciamo che non che non giungano fino al totale panciacarma volevo un po incitare veramente a cambiare velocità allora parlavamo di questa mentalità maschile che predomina sulla mentalità femminile e che fa spingere sempre verso il profitto cioè questa logica del profitto è quella che crede di sottomettere la natura con la tecnica e non si tratta soltanto di tutti i problemi che abbiamo creato nella terra e che oggi cerchiamo di rimediare con le case green con mille rattoppi che per l'amor di dio meglio che niente però rappresentano rispecchiano proprio la nostra tracotanza non lo fa soltanto con la natura esterna ma questa logica del profitto fa applica questa violenza anche con la nostra natura interna cioè con quello che sarebbe un concetto più alto di salute che non è semplicemente stare bene per lavorare e se non si è in forza e per farlo spegnere i sintomi che impediscono di essere utili quello che più di tutto sta facendo ammalare diceva questo suami in questo momento è proprio lo stress che è un sistema di avvelenamento del corpo che non può essere retto in maniera permanente nel senso che noi normalmente abbiamo due modalità nel nostro corpo abbiamo la modalità di allerta quando dobbiamo rispondere a un pericolo e quindi vengono prodotti viene pronto il cortisolo tutti i neurotrasmettitori che servono alla risposta rapida e abbiamo una modalità di quiete che serve a digerire a mangiare e a pensare e che libera l'ossigeno e il sangue dalle gambe dagli arti perché non dobbiamo scappare lo porta lo stomaco lo porta la testa e quindi permette anche di pensare di riflettere ecco nella stragrande maggioranza dei casi nessuno di noi conosce più questa alternanza delle due modalità ma siamo fermi nella modalità stress nella modalità cortisolo questo significa anche che non abbiamo il tempo e l'energia sufficiente per riflettere la yurveda dicevo è la scienza della conoscenza della vita quindi tra le scienze vediche antichissima e dice appunto che la malattia è una disarmonia quindi è un tradimento della verità lo stress quindi sarebbe un tradimento della verità la verità più alta qui fa riferimento è quindi non un successo che si misura con gli strumenti del mondo non è il nostro lavoro non è neanche gli obiettivi di felicità che pubbliche che vengono pubblicizzati per farci correre e consumare ma è questo successo il compimento del nostro dharma il grande dharma la grande missione il grande scopo che ci accomuna tutti che è quello di compiere un pezzo del nostro percorso che ci fa governare dalle leggi più grandi universali che accomuna noi la natura gli alberi quindi lasciare andare le ancor di essere portate da queste leggi più grandi ma anche il dharma individuale più piccolo che è la missione per cui ciascuno di noi è qui come a dire che quando non ti segui ti ammali quindi la malattia nasce innanzitutto nel nostro corpo di pensiero poi nel nostro corpo di energia e alla fine nel corpo fisico è ancora una volta quindi una malattia causata dall'illusione mentre il cambio sarebbe un accordarsi con la propria chiamata interiore ecco quindi che la salute diventa una questione di vera felicità quindi le cure ayurvediche se uno volesse andare ad esempio anche da questo suami solo per un consulto ma io non volevo comunque fare un deterrente al panciacarma è assolutamente da fare dico soltanto che appunto bisogna avere abitudine anche magari al digiuno a cose pratiche che nello yoga si fanno normalmente ecco si dovrebbero fare quindi le cure ayurvediche agiscono anche nei corpi sottili e portano in equilibrio ciò che non è in equilibrio questo seguendo anche la natura di ciascuno di noi e vengono nella ayurveda distinte in particolare tre tipi di natura c'è la natura vata, pitta e kafa la natura vata o aria è quella che si vede che è sottile normalmente longilinea secca, fredda che facilmente digiuna che ha la mente velocissima c'è la natura pitta, focosa che è medio linea forte calda molto veloce e c'è la natura kafa che è più lenta più a volte anche più tendente più a una rotondità nel corpo che è la terra l'elemento terra è una mente più sgombra più più riflessiva tutte queste tre nature vanno bene ciascuno di noi c'è una costituzione predominante che poi va cambiando anche durante la nostra vita in quanto in maniera naturale si dovrebbe tendere a diventare più aerei più sottili più vata ma quando una di queste costituzioni va in eccesso si crea una disarmonia che porta poi un malessere cioè per esempio se uno c'è un eccesso di vata non soltanto penserà troppo e non riuscirà a meditare ma dopo un po' gli faranno per esempio male le ginocchia gli faranno male le articolazioni perché questo vuoto questa natura che non circola più poi si deposita nel corpo tra le cose tra le perle che mi porto a casa dalle sedute fatte con questo maestro che è stato poi una delle cose belle dell'esperienza stare veramente con un maestro che senti che vede molto più lontano ecco di un semplice approccio di di spa ecco tanto più che si fa tutto questo in un vero ashram e ashram significa il luogo delle difficoltà il luogo dove appunto non vieni messo comodo vieni messo davanti anche agli spigoli della verità diceva raccolgo alcune delle sue perle diceva che io lo stress non lo capisco perché basta fare le cose piano e volentieri e anche diceva eh l'uomo occidentale sempre dice io scelgo io scelgo ecco il vizio lo puoi scegliere ma la virtù il bene quando l'hai conosciuto devi soltanto seguirlo questo è il dharma ecco quindi chi vuole approfondire il nostro discorso vertirà su cose più generali naturalmente può provare sperimentare io questo luogo veramente lo otterrò come un punto di riferimento adesso anche per non soltanto appunto per questa cura profonda e prolungata una settimana ma anche per le cose che dovessero emergere ed essere raddrizzate via via durante il cammino e invece per quanto riguarda la nostra chiacchierata io volevo limitarmi ad alcuni consigli di salute ampia tra corpo mente e anima proprio stando sulla linea della felicità che è quella che da sempre cerco di divulgare e vorrei proprio dividerla chiacchierata in queste tre parti in alcuni consigli per il corpo per la mente e per l'anima cominciando dal corpo allora è importante è molto importante che ci siano almeno due ore dormite bene prima della mezzanotte perché altrimenti il sonno può essere molto pesante ma non profondo e non si può recuperare alla mattina perché non è la stessa qualità quando si dorme bene i tipi vata è sufficiente anche cinque sei ore sei o sette va in pitta i caffa anche otto ore sette otto ore per capire che costituzione sei trovi dei test online oppure puoi appunto fare una visita ayurvedica ma dicevo se hai dormito bene la notte poi ti puoi svegliare presto il mattino e questo è molto importante perché il mattino è lì dove si ancora il benessere di tutta la tua giornata se non hai dormito poi magari invece hai sonnolenza durante il giorno ed è una nostra cosa quella di dormire dopo i pasti di fare la pennica ma così lo stomaco invece non digerisce quello che non viene digerito diventa appunto putrefazione veleno tossine al mattino invece se ti sei svegliato presto ti puoi dedicare un po' di tempo per dei rituali innanzitutto appena sei sveglio se ti doti di un pulisci lingua puoi pulirti la lingua prima di ingerire anche semplicemente l'acqua perché ci sono le tossine soprattutto se hai mangiato non correttamente la sera altrimenti devi lavare bene i denti e se puoi ci sono anche delle la iurveda conta molto sull'oliare il corpo oliare per far penetrare per fare vettore poi con l'olio a raccogliere le tossine che devono poi essere eliminate se il tuo organismo funziona bene quindi andrebbe messo anche un collirio oleoso ayurvedico negli occhi nelle orecchie e delle gocce sulla cima del capo addirittura massaggiarsi bene la cute per andare a rinfrescare la nostra mente puoi oliare il corpo con un olio adeguato anche in base alla costituzione puoi fare la doccia puoi anche invertire fare la doccia e poi oliare un po' meno se poi ti devi vestire il tuo corpo prima della doccia potresti aver preso una tisana ma mi raccomando ancora non un caffè puoi anche prendere dell'acqua e limone qualche cosa di depurativo non prendere il caffè prima di almeno una mezz'ora da quando ti sei svegliato quello che puoi fare aspettando il caffè è un po' di asana e un po' di meditazione cioè portare il tuo il tuo esercizio anche nella distribuzione lungo le tue cellule perché con gli allungamenti viene a sbloccare l'energia bloccata e puoi soprattutto puoi indirizzare questa energia attraverso la meditazione ancorarla al tuo centro e così non essere portato in giro da tutto quello che accadrà durante la giornata questo richiede naturalmente di non essere di corsa per andare al lavoro ma davvero se prendi questa abitudine ti renderai conto che la tua vita cambia completamente il pasto principale su cui dovresti concentrare l'energia è il pranzo perché quando il sole è alto agni anche il nostro fuoco digestivo è alto e ci consente una migliore digestione le cose crude è meglio mangiarle entro mezzogiorno quindi alla mattina va bene mangiare un po' di frutta un po' di pane marmellata per dire ma devono essere soprattutto cose sane ecco e poi la sera una cosa molto più leggera quello che è fondamentale è abbinare bene i cibi perché se tu per esempio abbini un'energia acida con una basica poi fermenta è il caso della pizza col pomodoro e la mozzarella mentre a sorpresa il latte e il caffè funzionano un modo per amalgamare bene le diverse qualità dei cibi è cucinarli insieme cioè se tu anziché aggiungere tante cose alla fine cucini più spezzi eccetera mentre stai preparando il condimento per il tuo riso meglio cereali in chicchi ecco piuttosto che cereali lavorati però insomma in Italia naturalmente mangiamo la pasta ecco se tu questo sugo l'hai già preparato cucinando gli ingredienti creano come delle nuove cellule che sono molto più digeribili che non avere tante diverse cose da digerire perché lo stomaco non sa che velocità andare un tipico piatto ayurvedico si chiama kichari ed è fatto del fagiolo munga la soia verde decorticato con il riso puoi cucinare puoi cucinarlo come un risotto puoi cucinare il fagiolo munga a parte fatto anche perché devi sennò metterlo a mollo insomma ci trovano queste ricette anche proprio nel sito di questo ashram ed è proprio un alimento completo di proteine e carboidrati i carboidrati sono quelli che vengono sciolti prima perché già a livello dello stomaco vengono sciolti mentre pensate che le vitamine e le cose crude vengono sciolte a livello dell'intestino quindi hanno bisogno di più tempo ecco perché è meglio mangiare le cose crude alla mattina e non alla sera un alimento che fa benissimo benissimo è il ghi il burro chiarificato perché ha potere proprio terapeutico calmante disinfiammante per chi è vata anche per radicarsi a terra tutti indifferentemente dalla costituzione fa bene digiunare una volta alla settimana fare movimento ogni giorno ma non con senso del dovere con la gioia e così veniamo alla mente perché ciò che rovina è proprio il senso della fretta sentirsi sempre più avanti di ciò che sta accadendo lo stress è questo non essere nel qui e ora fin tanto che noi abbiamo invece ardore abbiamo chiamato così in una precedente puntata le cose che facciamo non sono faticose insieme all'ardore ci aiutano a godere di ogni singola giornata la gentilezza la pazienza il non lamentarsi il non criticare il non farsi portare in giro dai pensieri quindi essere in grado di avere il controllo della propria energia e qui chi ci aiuta? naturalmente lo yoga che è la suprema arte del distacco ne parliamo adesso quello che potremmo riassumere riguardo alla nostra mente la nostra mente non viene stressata dal nostri gesti dal nostro fare dal nostro operare nel mondo se tutto quello che facciamo lo facciamo come karma yoga cioè badando più al processo di fare volentieri il processo che al risultato e al profitto pensa di fare bene quello che fai in ogni singolo istante poi il futuro il risultato si prende cura da sé di se stesso terza parte l'anima e lo yoga perché dobbiamo praticare il distacco perché noi non siamo venuti qui per fare il successo figli per viaggiare per andare in vacanza cose assolutamente buone e lecite ma che sono effetti secondari di uno scopo più grande che è evolvere siamo qui lo ripeto con una missione e se non la seguiamo andiamo in disarmonia e ci ammalliamo e così si ritorna all'inizio quindi cerca di avere cura del tuo corpo della qualità dei tuoi pensieri e di quella pulizia che devi fare attraverso la pratica dello yoga e della meditazione che rende meno pesante la tua parte dense la tua parte materiale così da permettere alla tua luce dell'anima di splendere un ashram anche Ananda io ogni tanto mi chiedo facendo anche il mio lavoro ma sono qui e faccio il mio lavoro perché vivere in un ashram perché frequentare un ashram perché un ashram è proprio il luogo dove puoi praticare le quattro vie dello yoga che sono il karma yoga il bhakti yoga la devozione il jnana yoga la saggezza lo studio di sé della consapevolezza e dei testi sacri e il raja yoga la meditazione e la sua parte fisica che è lata yoga tutto quello che serve per la cura del sé quindi fate ogni tanto qualche gita che vi faccia non soltanto passare una buona ora di distrazione di divertimento ma che metta delle radici profonde fino alla vostra anima per questa puntata è tutto e ci ritroviamo alla prossima grazie a tutti